È appena finito il Gran Premio di Olanda sul circuito di Zandvoort, si tratta di due giri di gara assolutamente anonima a mio modo di vedere che però premia anche una volta il solito vincitore ovvero Max Verstapp nel secondo dei tre appuntamenti ravvicinati che riprendono appunto dopo la pausa estiva della Formula 1 perché abbiamo visto settimana scorsa a Spa, oggi Zandvoort, settimana prossima Monza nel secondo Gran Premio italiano della stagione. Gara di Zandvoort che come al solito non raccoglie grandi emozioni in pista perché è un pistino e il pistino tendenzialmente regala o gara trenino o gara assolutamente anonima e qui abbiamo regalato praticamente entrambe le cose ma per la seconda posizione in giù perché il primo è soltanto Max Verstappen autentico dominatore della gara olandese e questa è paradossalmente l'immagine più iconica che quella che succede a fine della gara di Zandvoort, ovvero la parata di Verstappen all'ultimo giro davanti ai suoi tifosi. Qui siamo alla staccata di curva Audi dove evidentemente il pubblico è impazzito per l'idolo delle folle che vince la trentesima gara in carriera a quarta consecutiva, un po' come bagnaia in MotoGP ma di quello ne prepareremo domani. Fatto sta che appunto anche oggi Verstappen è dimesso di essere nettamente superiore a tutta la concorrenza e lo si è visto in particolari molto interessanti, per esempio il duello con la Mercedes che di fatto è la seconda forza in pista senza se e senza ma, c'era davanti Russell con Verstappen dietro, Verstappen con DRS ha guadagnato praticamente un secondo sottillino, ha detto che il setup della Red Bull dell'olandese è veramente superiore anche con l'aiuto del DRS. Prima della staccata di curva Tarzan il pilota olandese va a superare George Russell in staccata e appunto lì saluta appunto la compagnia. Due safety car in realtà hanno provato a rendere la vita complicata alla Red Bull e alle strategie che potevano essere evidentemente la chiave di volta di questa carizzando che vada a vedere qualcosa di diverso ma non è stato così perché da una parte Mercedes fa una buona strategia per quanto riguarda il doppio pit stop in prima safety car, dall'altra parte sulla seconda safety car per caso da Valtteri Bottas la Mercedes danneggia Hamilton e gli fa perdere il podio. Tant'è vero che appunto di fatto il podio con i tre piloti del presente e del futuro prossimo ovvero Verstappen, Russell e Leclerc. Per Verstappen è la quarta vittoria consecutiva e suona per lui Helphine Helmus ancora una volta, trentesima vittoria in carriera. Sono veramente dieci se non ho contato male le vittorie in stagione perché Verstappen sta sempre di più avvicinandosi al titolo del mondo 2022. Questa volta non ci sono rivali che tengano, un po' si è intervallato Leclerc, un po' si è intervallata questa Mercedes ma contro questo Verstappen c'era veramente poco da fare. Podio completato da Russell appunto in seconda posizione che sfrutta una buonissima chiamata del suo box o meglio in realtà è Russell che fa una buonissima chiamata dicendo di montare le gomme morbide sotto il regime di safety car per l'incidente capitato a Valtteri Bottas. Strategia che non viene fatta da Hamilton e infatti il podio si spiega in questo modo. Leclerc sfruttando appunto le due Virtua Safety Car e la Safety Car trova un podio che è insperato va detto perché di fatto in proiezioni, in proiezioni normali la Ferrari si è finita fuori dal podio pur partendo seconda e terza. Al netto che comunque al netto di una buona qualificazione la Ferrari secondo me è la terza macchina in pista. Senza se e senza ma Leclerc comunque limita i danni per quanto limitare i danni in questo contesto sia secondo me assolutamente un eufemismo perché appunto una classifica la vediamo tutti. 310 punti per Max Verstappen, 201 per la coppia Leclerc-Perez quindi 111 punti di distacco a 8 gare dalla fine sono un divario. Secondo me è praticamente incolmabile, sarà questione di tempo prima che Verstappen vinca il suo secondo titolo del mondo consecutivo. Certo è molto probabile che Verstappen vincerà qualche gara, è altrettanto probabile che Leclerc ne vincerà qualcun'altra. La Ferrari può porsi questo obiettivo qui realisticamente per quello di vincere qualche gara qui e lì ma è in dubbio come il messaggio sia chiaro ovvero il titolo del mondo ancora una volta in direzione dell'Olanda. E attenzione perché George Russell non è così lontano dal duo che è in seconda posizione. La lotta per la seconda, terza e quarta posizione sarà sicuramente molto interessante perché evidentemente la Mercedes è chiusata tanto abbiamo visto che è la seconda macchina in pista. Oggi l'Olanda si è praticamente acclarato e Russell accomplishe appunto questa grandissima chiamata fatta da lui appunto con le gomme rosse a fine gara. Riesce a trovare il podio, quindi grandiosa prova di Russell che ha 188 punti, soltanto 13 lunghezze da Leclerc e Perez. È una cosa di clamoroso, secondo me non pronosticabile visto l'andazzo che ha avuto la Mercedes inizio anno, ovvero una macchina disastrosa. Qui invece la Mercedes è cresciuta, dal punto di vista della strategia è migliorata tanto, segno che hanno potuto fare qualcosa di diverso anche se evidentemente più penalizzato. E chi è arrivato quarto? Ovvero Lewis Hamilton. Lewis Hamilton era addirittura primo, prima della Seti Car causata da Valtteri Bottas. L'errore più grossolanno della Mercedes è stato non richiamare Hamilton a fare il pit stop con le gomme rosse, probabilmente sarebbe arrivato ancora dietro Verstappen. È vero, ma probabilmente avrebbe difeso un podio, non la prima posizione. Però abbiamo visto sprazzi di Muretto Mercedes assolutamente competente, che appunto con una macchina inferiore ai suoi diretti rivali, in questo caso Red Bull, ha provato a fare qualcosa di diverso. Ottima la chiamata di Mercedes per fare il doppio pit stop in quella circostanza, meno bene la chiamata per Russell corretta e per Hamilton ovviamente sbagliata. Infatti Hamilton arriva a quarto per un errore del Muretto, mi verrebbe da dire. Sembra il Muretto Ferrari dai bei tempi. Il Muretto Ferrari che peraltro si è divertito a non dare una gomma a Carlos Sainz, che ne ha combinato oggi più di Carlo in Francia, perché Verstappen era imprendibile. La Ferrari doveva difendere evidentemente il podio, Sainz non poteva difendere il podio, ma comunque nel dubbio non mettiamo una gomma a Carlos Sainz in pit stop. Anzi ce la dimentichiamo nel box e faccia perdere 30 secondi al box del podio spagnolo, che poi nel frattempo ne combina anche tante altre, perché ci sono unsafe release, passi sotto bandiera gialla. Insomma Sainz oggi non era sul pezzo, infatti finisce ottavo penalizzato giustamente di quei 5 secondi, in realtà per impeding a Fernando Alonso in pit lane. Una Ferrari che, ripeto, come unico obiettivo ha quello di vincere qualche gara da qui alla fine del campionato del mondo. Quinta posizione alla fine è Sergio Perez, che comunque fa una gara non propriamente sul pezzo, dalla seconda a Red Bull probabilmente si poteva aspettare qualcosa di più secondo me. Sesta posizione per Fernando Alonso, che a 41 anni continua a essere di fatto il migliore degli altri, sfruttando anche per i gari di Carlos Sainz alla fine il 41enne oramai. Finisce sesto, quindi grandiosa prova dell'Alpine, che comunque sta crescendo e dimostrando sicuramente la quarta forza del campionato nel complessivo. Settimo, Orlando Norris con l'unica McLaren degna di questo nome, anche oggi Ricciardo, After The Music, per fortuna, gli hanno dato 21 milioni di buoni motivi a Ricciardo per andarsene l'anno prossimo. E la seconda sedia della McLaren verrà appunto rimpiazzata da un altro stagliano, ma molto più promettente, ovvero Oscar Piastri, di cui si tanto parlato in questa off-season, coppia per il futuro Piastri-Norris molto interessante. Manca la macchina, ma Norris comunque con una macchina indecente, mi verrebbe da dire, riesce a fare comunque una volta una gara in zona punti. Ottava posizione appunto, Carlos Sainz abbiamo già detto, nono, Esteban Ocola abbiamo già detto, una volta due Alpine in zona punti. Ultimo punti è Lance Stroll che è nel pistino olandese di Zandvoort, che ripeto è una pista che a me non piace per vedere una gara di Formula 1 da guidare, nei simulatori di guida molto, perché è molto tecnica e particolare, ma per vedere queste gare, queste Formula 1 praticamente anonime, assolutamente no. Comunque punti per il canadese sono 5 in totale su 14 gare. Per un mondiale che, ripeto, adesso avrà la gara di Monza, poi ci sarà la praticamente trasferta oltreocena tra Singapore, Giappone, Stati Uniti, Messico, Brasile e Abu Dhabi. Però appunto possiamo dire che dopo la tappa europea italiana di Monza, il mondiale probabilmente avrà pochissimo da dire, se non per le singole tappe in sé, il mondiale è praticamente finito, perché Verstappen contando da Arabia Saudita ha vinto Arabia Saudita, Imola, Miami, Spagna, Azerbaijan, Canada e le quattro evidentemente in stecca, sono 10 gare e 20 su 14, dominio totale di Verstappen con una Red Bull che ricordo è partita molto male nelle prime tre gare della stagione e poi però è riuscita a migliorare per portare una macchina che riesce a vincere praticamente in tutti i contesti. Aggiungiamo il fatto che Verstappen è un fenomeno e di conseguenza è importante consacrare l'olandese come secondo vincitore del titolo del mondo consecutivo. E comunque è bello per lo spettacolo e per il futuro prossimo che nel pollo di Olanda ci siano i tre piloti del futuro, ovvero Verstappen, Russell e Leclerc. Manca Norris, ma Norris ovviamente è una macchina che è letteralmente indecente. Chi invece non è indecente è colui che è il leader della Formula 2, ovvero Felipe Drugovic che finalmente torna a vincere dopo Monte Carlo e vince la gara che conta di più, ovvero la feature race di Zandvoort. 233 punti per il pilota brasiliano sono un bottino molto importante a quattro gare dal termine, due eventi pieni. Attenzione perché nella gara di Monza la sprint race probabilmente potremmo consacrare il brasiliano classe 2000 come prossimo campione del mondo della Formula 2. Quindi per Drugovic suona ancora una volta il suo inno nazionale. Seconda posizione invece per Rikard Veskor, altro olandese che fa molto bene in casa e molto bene anche il Team Trident che avrà modo di togliersi altre soddisfazioni anche in Formula 3, ma comunque Verstappen può essere partito molto bene vincendo la prima gara in Bahrain, ha collezionato una vittoria in Austria che però è stato squalificato per mancanza di benzina. È un pilota che ha dei buoni acuti nelle ultime gare, sempre nella top 10, addirittura con picchi di quarta, quinta posizione. Buon podio per l'olandese nella gara di casa. Terzo per Ayumu Iwasa che con una strategia molto interessante beffa Dennis Hauger e soprattutto Jack Duan che dovrà poi però ritirarsi, complice una ripartenza indecente di molti piloti alla prima safety car cose che infatti dovranno essere revisionate in direzione gara, ma comunque buon podio per Ayumu Iwasa altro pilota di protetto della Honda che sarà assolutamente da seguire anche il prossimo anno. La gara invece sprint la vince un neozelandese ovvero Marcus Armstrong, seconda vittoria di stagione per lui per il quale suona God Defend New Zealand, una nuova Zelanda che tra Lawson e Amsterdam ha vinto addirittura cinque gare sprint in tutti gli eventi della Formula 2, qualcosa di incredibile, evidentemente gli occhi sono specialisti in tal senso. In seconda posizione per quanto riguarda la gara sprint abbiamo Clement Novalac, pilota francese del team MP Motorsport, lo stesso di Drugubis che dunque si dimostra molto importante sulla pista di caldo, ricordo che MP è un team olandese, olandese e terzo è Liam Lawson che è l'altro che ha vinto più gare sprint di tutti, altro pilota dell'Unione della Red Bull, un po' come Iwasa della gara precedente. In Formula 3 invece abbiamo il penultimo evento che si è concluso, ovvero appunto quello di Zandvoort, manca soltanto una gara per assegnare il titolo del mondo Formula 3 e sarà un macello tra Victor Martins, Isa Cajar, Roman Stanec e Oliver Berman e attenzione perché anche Maloni e Leclerc non sono messi così male, è un mondiale che sulla carta vede sei piloti coinvolti ma andiamo con ordine, una gara a uno la vince il brasiliano, Caio Collette, pilota brasiliano del team olandese MP Motorsport, dunque altro brasiliano che vince per cui sono i suoi nazionali. Seconda posizione per Juan Manuel Correa e qui dobbiamo fare una parentesi perché sappiamo perfettamente che Correa fu il pilota che venne coinvolto nel tragicissimo incidente che fece perdere la vita ad Antoine Hubert, pilota francese in rampa di lancio all'epoca del team Renault, appunto Hubert venne a mancare, Correa ha lottato un anno e mezzo praticamente tra la vita e la morte, ha rischiato di perdere entrambi gli arti inferiori e alla fine è tornato, ha fatto un passo indietro in Formula 3, lui che correva in Formula 2 nel 2019 e alla fine ha trovato un po' di in Olanda, veramente grandissima soddisfazione per il pilota statunitense. Io sono veramente contento di annunciare il podio di Juan Manuel che veramente ne ha passate tantissime. Terzo invece è Zracco Saldivan, pilota britannico del team Carlin, pilota obstinato dalla Williams con il secondo podio in stagione. C'è invece un qualcosa di storico da un certo punto di vista invece in gara feature perché è una vittoria che rilancia questo pilota in corsa per il tiro del mondo anche se è veramente complicato. Parliamo di Zane Maloney, il primo barbadiano a vincere una gara di Formula 3, l'ha visto protagonista a Spa letteralmente una settimana fa e nella feature race di Zandvoort vince ancora lui, di conseguenza seconda vittoria in carriera per il pilota dell'Isola e Barbados per cui sono il suo internazionale ovvero in plenty of time of need. Quindi grandiosa prestazione per il team Trident, il team italiano, Baloney va a 102 punti, è difficile che i piloti da Stanec all'Eclerc possano essere contendenti per il titolo del mondo, ma la matematica di certo non li esclude, sarà importantissimo vedere la qualificazione di Monza e anche la gara sprint. In seconda posizione per la gara di Zandvoort abbiamo Victor Martins, pilota francese che appunto limita i danni su Isaac Ajar, altro francese molto importante, sono loro due probabilmente i principali candidati al titolo del mondo per il pilota della Art Grand Prix in testa. Martins è però un pilota più costante rispetto a Dajar che ha vinto di più ma ha anche sbagliato di più. Terza posizione invece per l'argentino Franco Colapinto del team VAR, altro team olandese che va bene in Olanda e quindi è quarto podio in stagione per il pilota argentino che va detto ha anche avuto una carriera alle ruote coperte e poi tornare alle monoposte ruote scoperte. Ultimo appuntamento dunque per la Formula 3 in prossima settimana a Monza, quindi vedremo chi sarà poco chiamato campione di categoria e chi succederà a Dennis Hauger che adesso corre in Formula 2. Questa invece è la classifica di Formula 1 con Verstappen praticamente più che indirizzato al secondo titolo del mondo consecutivo e sarà importante vedere la lotta tra la seconda, terza e quarta posizione. Il saluto da parte di Matthew Torgard, ci vediamo in un prossimo video.